Eccoci qua. Che volevi dire? Che siamo in difficoltà, perché mi ha fatto vedere che è uscita questa cosa. Su bici. Su bici.it, su Dago Spia, è uscito che ci vogliamo separare, ci stiamo separando. O ci siamo separati, non lo so. Non si sa. Comunque sì, adesso siamo molto in difficoltà, perché che facciamo? Esatto. Che facciamo? Ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimo sito di informazione che guida la vita di tutti i nostri giorni, con le sue notizie fondamentali per il nostro quotidiano? Oppure non ci separiamo e mandiamo a quel punto sul lastrico il sito, perché è un sito di fregnacce? E qui è un problema... Non è un sito di fregnacce. No, se non lo facciamo è un sito di fregnacce. Ah, certo, certo, certo. E sto a fregnacce. Allora, a questo punto, mo' che facciamo? C'è un dilemma morale. Un dilemma morale. Vabbè, pensiamoci. Anche perché ci l'hanno detto adesso, così su due piedi. Eh, faccia via un attimo, così. Dovremmo parlarne pure con i figli, con la famiglia. Eh sì, dobbiamo parlarne casomai con i figli, nel caso fosse. Magari prima, capito? Magari prima che dicessero le fregnacce, le importantissime informazioni che ci regalano questi siti. Non perdete mai le informazioni di questi siti, eh. Non sappiamo. Fatevi sempre la vita degli altri, bravi. Comunque, eh, a oggi non c'è una conferma, non c'è una smentita, non c'è niente. No, però ci mettono fretta. Io veramente andavo con Adele a Verissimo, però mo' vediamo, non credo che lo voglia dire a lei. Adele? Mancosa? Ancora, certo. Eh certo, loro lo sanno loro, ma non lo sanno i nostri. Mi piacerebbe chiudere come chi sia domenica in. Vabbè, no, non chiudere niente. Fatevi. Vostri. 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 Vostri.